Ciao a tutti, oggi leggeremo insieme Uffa, quanto manca. Visto questo periodo di attesa, questo periodo che ci tiene lontano dai nostri affetti, dalle nostre abitudini, ho scelto questo libro che ci parla di come aspettare le cose, ma ce l'ho presente in maniera divertente. Leggiamo insieme. Uffa, quanto manca. Reginald, ho una sorpresa per te. Evviva! Che cos'è? Non posso dirtelo, è una sorpresa. È grande? Sì. È bella? Sì. È per tutti e due? Sì. Non vedo l'ora! Però devi aspettare. Aspettare? Cosa? Perché? La sorpresa non è ancora pronta. E quindi, devo proprio aspettare? Sì. Uffa! E va bene, se proprio devo, aspetterò. Sto aspettando. Non è facile. Tina, quanto manca? Voglio la mia sorpresa. Mi dispiace, Reginald, ma dobbiamo aspettare. Uffa! Sono stufo di aspettare. Chissà poi se la tua sorpresa è così bella. Basta, me ne vado. Ok, magari aspetto ancora un po'. La sorpresa è bellissima, fidati! Uffa! Aiuto! Tina, abbiamo aspettato troppo. Si sta facendo buio. Troppo buio. Fra poco non riusciremo a vedere più niente. Nemmeno i nostri nasi. Abbiamo sprecato tutto il giorno. Beh, ecco. Abbiamo aspettato, aspettato, aspettato e aspettato. E per cosa? Per questo. Avevi ragione. È bellissimo. Lo so. Domattina voglio farti vedere l'alba. Non vedo l'ora. Wow! Wow! Grazie.